Augusta, carabinieri sorprendono violazioni al Covid-19, controllate 416 persone e 258 veicoli, sanzione per quasi 10.000 euro. Nonostante il consistente calo dei contagi nel territorio sragusano, rimane costante l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Augusta sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia al fine di fornire un tangibile contributo ai cittadini per un veloce ritorno alla normalità. Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati in genere e al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'intero territorio, ricadente nella giurisdizione di competenza, gli uomini della compagnia di Augusta hanno nel corso della settimana eseguito diversi servizi controllando un cospicuo numero di persone e veicoli in corrispondenza delle principali alterie stradali, cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento, nonché dando altresì impulso all'azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo. Durante le attività i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 416 persone e 258 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali e veicolari, contestando svariate violazioni al codice della strada, in genere per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per l'uso del telefono cellulare durante la guida, per la mancata revisione periodica del mezzo, per la guida di motociclo senza l'uso del casco protettivo e in un caso per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Le sanzioni elevate raggiungono un importo di circa 6.500 Euro e sono state anche ritirati due documenti di circolazione per un totale di 50 punti complessivamente sottratti dalle patente di guida. Durante le attività volte invece a far osservare i vigenti decreti governativi regionali in materia di contenimento della pandemia SARS-CoV-2, i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente otto persone per un importo di circa 3.200 Euro. I militari della stazione carabinieri di Sortino hanno in tale quadro segnalato alla Prefettura Redusea, un giovane del posto, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.